Ora subito al lavoro per la riattivazione della Siciniano Lago Negro e quanto chiedono al neoeletto consigliere regionale Tommaso Pellegrino i referenti del Comitato per la riattivazione della tratta ferrata Siciniano Lago Negro. L'elezione a consigliere regionale di Tommaso Pellegrino, già sindaco di Sassano, scrivono dal Comitato, consegna all'esponente politico valdianese che andrà a comporre il gruppo di maggioranza un dovere morale. Il consigliere regionale, già deputato, evidenziano, era presente all'incontro ormai divenuto storico di alcuni anni fa presso la sede di FS Italiane, alla presenza dell'allora amministratore delegato Mauro Moretti, del vicepresidente del Parlamento europeo Gianni Pittella e dei compianti sostenitori della ferrovia Piero Muscolino e Salvatore Passavanti. Se Carlo Levi, il quale ha tristemente profetizzato la fermata di Cristo a Eboli, diceva che le parole sono pietre, stavolta anche le foto lo diventano. Invitando il neoletto consigliere regionale a partecipare ad un evento incontro in programma il 3 ottobre prossimo, anniversario della realizzazione della prima ferrovia in Italia, la Napoli Portici, i referenti del Comitato continuano, riferendosi proprio all'evento a cui aveva partecipato il consigliere regionale di Sassano nel 2013. Vogliamo che la storica foto scattata presso la sede dell'FS a Roma sia un monito per Tommaso Pellegrino, il quale, come presidente del Parco Cilento Vallodidiane Alburni e consigliere regionale, può diventare un fondamentale tramite con il presidente De Luca e con la nuova giunta per dare nuova linfa alla cura del ferro anche nelle aree interne, troppo spesso dimenticate colpevolmente dalla politica. Gli ultimi abusi subiti dalla ferrovia sicignano Lago Negro non lasciano spazio alle interpretazioni, serve una svolta. Le percentuali bulgare con cui la campagna ha dato fiducia al governatore uscente, sottolineano in conclusione, devono solo far sentire ancora di più il peso della responsabilità e del dovere di dare risposte. Del resto, De Luca, alla vigilia del suo primo mandato, definì una priorità la riapertura della sicignano Lago Negro.